Buongiorno a tutti, buongiorno, 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 facciamo il pagellone, le vie capellini. Diciamo subito che anche ieri Juventus in modalità campionato, cioè a due maizze, tanto ha possesso palla, 70%, è poco arrosto. Diciamo che il Genoa, come tante altre squadre, rinuncia a giocare a pallone per prendere il punto, capo alla fin comunque, con la maggior parte di Mangupi. Centrocampo di nuovo a rallentatore, a noi serve un centravanti. Infatti si è vista la differenza, come è entrato Morata, come è entrato Morata, si è vista la differenza. Quindi a gennaio serve un quarto attaccante, possibilmente un centrocampista e un centravanti. ora andiamo con i voti. Scesni 5, 0 tiri in porti, 0 tiri in porti, 1 gol. Sai perché c'è? 1 cross. Frahid, frahid. E ho cominciato con l'Alexandro, faccio una cacca, la testura ora lo faccio, 5. Un'alto buono sufficiente, perché alla fine non ho fatto un grande quadrato, 6 e mezzo, perché alla fine sembra che il cross è quello che dà, anche se a livello difensivo a me non piace, per me deve fare l'ala, l'ala. Alessandro, 4 e mezza. Io dopo 5 minuti ieri avevo già capito che Alessandro è un angistofo. Infatti, sia per quanto riguarda la partita in bacino un granché, non ha spinto per niente, anche forse perché avanti a lui ci aveva chiesa. Posso può gollo, grandissima cacata, e quindi 4 e mezzo. Centrocampo, Huken Demer. Rabiot, 4 e mezzo. Betancourt, 5. Lenti, impacciati. Betancourt è un passaggio, niente di che. L'unico che corre in mezzo al campo è Kusameriken, McKinney, che comunque si fa vedere, corre a grinta, 6 e mezzo. Chiesa, 6. Come sempre, tutte le partite che ha giocato, Bachelard Cup, core, 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 ma non è un gran granché. Infatti, come va sottile, si è vista la squadra. Ha preso 4-3, 3-2, ok, ma si è vista la partita. Di Bala, si vede che ancora non sta al 100%, però ha fatto un bel gol, anzi, ne ha fatti due, per il VAR l'annullato. Quindi per me è sufficiente, perché non esagero mai con i voti. Poi, più volte, da qua, quei tiri lenti, si vede che non sta bene. Però un bel gol lo faccio, quindi 6, sufficiente. E Ronaldo, 7. Alla fine, non è che faccio un grande granché, però la palli in volta, l'avamo nemmeno. Ora, 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 l'avamo nemmeno. Kulusevski, Graksuindo, Morata, De Bernardeschi, tutti i contrasse, senza voto, tranne Morata, che le do un bel 6,5, perché, come ho detto all'inizio, Servo ci andrà bene, ci andrà bene, ci andrà bene, uno che fa girare la palla, sai, deve avere un punto di riferimento al centro, aria, e si creano azioni. E pirlo sufficiente, che va alla fine, uggenso, per me, tutto ha fatto, tranne giocare, e così è uscito il 3-1. I rigori sono stati netti, i fuorigioco, il gol di Dybald, poi mai, 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 è da annullare, perché se andate a vedere le linee, poi mai con una è fuorigioco. Comun. E a quel tipo hanno giocato, per te? E allora, arrivederci, ci cediamo mercoledì sera, massimo giovedì mattina, per la prossima, Juve Atalanta. Sempre forza Juve, dai vecchi capelli. Buongiorno, ti va bene.